Il titolo in parte è un po' sorprendente, ma riflette due cose. Uno è che nella mia frequentazione del mondo della ricerca accademica sulla educazione, sulla formazione all'informatica, la didattica dell'informatica, se volete, in inglese si tende a definirla in Europa come informatics education, negli Stati Uniti e nell'Australasia si chiama ancora computer science education, e ho trovato che in quell'ambito c'è moltissima intersezione, i ricercatori, gli studiosi, molti di loro hanno fatto esperienza anche nella dimensione del software engineering, e poi cercheremo di capire che cos'è questa cosa. Questo è il primo elemento. C'è una sorta di comunicazione e di dialogo fra buone prassi dell'una parte e dell'altra parte. E il secondo elemento di questo titolo, sul quale avremo molte occasioni in questa conversazione di tornare con accento e con enfasi, sono due parole chiave, retrospettiva e automiglioramento. Quindi questa è, diciamo, la spiegazione in breve del titolo, ma dato il titolo possiamo procedere dando un pochino più di contesto. Allora, il tema di cui parliamo, la cornice di cui parliamo, è l'insegnamento e conseguentemente l'apprendimento della programmazione. L'informatica non si riduce alla programmazione, evidentemente, anche di questo parleremo, ma è un elemento molto importante, sia elemento formativo che elemento di manifestazione. Intenzionalmente la riflessione che qui faremo, che io farò e che poi, diciamo, voi potete condividere oppure potete dissentire anche attraverso quello che metterete per scritto nella finestra di dialogo, sono applicabili di fatto a qualunque livello di formazione, non sono influenzate dal fatto che io lavoro in un'università e di queste cose mi occupo, diciamo, anche attraverso l'osservazione della didattica universitaria, oltre che la sua. svolgimento applicano ad ogni livello, naturalmente, in forme che vanno diluite e declinate in relazione all'età delle persone che uno ha davanti. Prenderemo, diciamo, spunto, ruoteremo molto spesso su due assi di riflessione, che sono due forti, appunto, sorgenti informative. Una, come vi ho detto, la trasposizione di pratiche molto proficue che sono consolidate nel dominio dell'ingegneria del software. e l'altra è la comprensione che comincia ad essere, diciamo, del mondo della scienza sufficientemente avanzata e consolidata di come funziona l'apprendimento. Quindi, terremo conto discutendole di questi due elementi. E la cosa, diciamo, su cui ruoterà un po' della motivazione della discussione è la presenza degli errori e la presa in carica degli errori. e vedremo se su questo riesco poi a trascinarvi verso dove intendo io. Allora, l'osservazione che io faccio, e questo lo metto in premessa, è che quando osservo la formazione informatica anche all'università, non soltanto quella che osservo direttamente dove sono di sede, diciamo, ma anche quella che osservo indirettamente dialogando con colleghi di altre sedi anche fuori d'Italia, colgo questo elemento che c'è una sorta di aspettativa qualche volta silenziosa, quindi aspettativa non verbalizzata ma manifestata, qualche volta addirittura, come dire, resa esplicita che l'aspettativa dell'attività di insegnamento o bar di apprendimento sia che i programmi che sono una manifestazione visibile, tangibile dell'apprendimento e della programmazione siano buone alla prima. Cioè, se te lo faccio vedere, è perché è buono. Funziona. E questo, insomma, si direbbe in inglese una misconception profondissima. cioè è un errore concettuale, non è vero, è un'illusione. Non è praticamente mai vero che un programma sia buono alla prima e non è neppure vero nell'ambito professionale. Nell'ambito professionale è un dato acquisito che non sia così e infatti ci sono delle metodiche che aiutano a ragionare e a operare intorno a questa osservazione. e quindi, insomma, c'è da prendere atto e cercare di, diciamo, su questo basare un po' di metodo didattico sul fatto che gli errori esistono. Capitano frequentemente, a volte sono anche numerosi e anche quando ci appare di averli rimossi, poi, diciamo, ci citerò un paio di fenomeni che sono sicuramente anche nella vostra esperienza, anche, diciamo, se quelli più manifesti li abbiamo, come dire, sgominati, c'è sempre spazio per migliorare il nostro programma, in una dimensione della sua efficienza, della sua efficacia e di altre proprietà, di cui adesso non elenco per sintesi, la cui mancanza è essa stessa un errore. E quindi qual è il punto? Il punto è che uno dovrebbe riconciliarsi con la presenza dell'errore e mettere in campo dei processi, diciamo, cognitivi, di apprendimento, quindi specchiati nei processi di insegnamento, che ci aiutino a individuare e correggere gli errori, senza nascondere sotto il tappeto e usandoli al contrario come strumento per accelerare l'apprendimento. Quindi questa è la premessa, se volete, ideologica di questa conversazione. in qualche misura stiamo dicendo gli errori al centro. Ora, prima di procedere, diciamo, faccio una sorta di piccola digressione di contestualizzazione, che è un pochino questa. Quando noi parliamo di informatica, non è sempre ovvio che ci capiamo. tra di noi forse sì, ma, diciamo, là fuori spesso no, anzi, diciamo, molto spesso no, e forse addirittura, diciamo, nella platea fra, diciamo, delle persone, di voi che siete qui presenti ad ascoltare. Che cos'è l'informatica? E uso un modo di raccontare questa cosa che è parte di ciò che racconta un importante studioso inglese che si spende molto, si è speso molto negli ultimi vent'anni sul tema dell'informatics education. Il suo nome, vedete, indicato nella figuretta all'altro dell'immagine. Lui si chiama Simon Payton Jones. Questo è un stimabile australiano d'origine, molto british, diciamo, diventato, che racconta dell'accordo e dice la prima osservazione che si fa, che ci tocca fare, che non è un'osservazione che è un singolo paese, è molto diffusa questa cosa qua, è che l'informatica non è percepita come scienza. È molto frequente, anche questo è un caso di misconception, il fatto che l'informatica sia nella parte diciamo emersa, vedete questa diapositiva suggerisce che c'è una parte emersa sullo sfondo bianco dove c'è scritto application, poi c'è una parte sommersa nell'oscurità degli abissi che è il fondamento scientifico e poi c'è una parte diciamo di mediazione che avvicina la superficie che l'engineering. Qua è il senso, questo è applicato diciamo nel modo in cui questa diapositiva è riempita riguarda la fisica ma questo fondamentalmente riguarda l'iniscenza e quindi il suggerimento è che questa stratificazione applichi moltissimo anche all'informatica con la differenza diciamo in qualche misura clamorosa che lo strato emerso la parte applicazione sia così pervasiva che offuschi la vista che sia fondamentalmente la sola cosa che vediamo e che nasconda ciò che ci sta sotto e quindi l'esercizio diciamo che sul quale spenderei diciamo qualche momento di riflessione invitando ciascuno di cui riflettere su se stesso non c'è spazio che per fare un dialogo è considerare questa cosa qua cioè che quell'immagine quella stratificazione che in alto in alto ha le applicazioni in basso in basso ai fondamenti scientifici e in mezzo all'engineering cosa significa? cioè la trasformazione dei fondamenti scientifici in modalità di utilizzazione quindi la traduzione della scienza in pratica che è l'engineering in ogni sua manifestazione come questa cosa applichi all'informatica in qualche misura per l'informatica il percorso per capire i suoi fondamenti scientifici è un percorso diciamo da palombaro cioè che ci chiede scavare sotto la superficie tutto ciò che vediamo nella parte apparente che sono appunto le applicazioni dell'informatica cioè i servizi i programmi le utilità che abbiamo in mano veicuate attraverso strumenti tecnologici che sono l'engineering per esempio ovunque siamo in qualunque io ritornavo dall'estero in aereo e guardavo così con un'osservazione diciamo distratta casuale intorno a me nella sala d'attesa dell'imbarco cosa facciano le persone e il 95% di loro compulsava un cellulare ecco il cellulare è chiarissimamente un pezzo dell'engineering ci sono sopra il cellulare delle cose che sono la manifestazione applicativa di servizio dell'informatica però questo lo vediamo sotto cosa c'è di cosa è fatto il suo fondamento scientifico quindi è la cosa su cui vorrei spendere appunto qualche minuto e poi ci spostiamo a vedere se con la stratificazione che ci che ci mostrava che ci mostra mostrano le sue presentazioni nei suoi libri Simon Peyton Jones applichi alla coppia di concetti programmazione programmi ma ci arriviamo tra un istante prima di arrivarci facciamo questa questa operazione di ragionamento diciamo di come si va diciamo dalla scienza alle applicazioni quindi dai fondamenti scientifici che sono nella parte sommersa profonda verso la parte superficiale nel caso dell'informatica al centro di tutto si può dire penso che si possa dire e non lo dico io dice la scienza al riguardo ci sta il principio di computabilità cioè il fatto che gli oggetti che l'informatica manipola oggetti concettuali che l'informatica manipola sono associati a procedure eseguibili che effettuano calcoli e qui ci sono quindi degli elementi abbastanza ovvi per molti versi ma sui quali è bene soffermarsi e riflettere diciamo in un senso profondo dire eseguibile e poi non basta vedete più avanti in questa pagina ci sarà diciamo un avverbio da affiancare a questo eseguire dice che ciò che fa l'informatica è creare procedure che attuano algoritmi e nel farlo calcolano allora questi algoritmi perché diciamo possano essere computabili quindi calcolabili sono tali se sono finiti cioè se dato un inizio termineranno e sono deterministici che siano deterministici cioè che dato un ingresso passato di partenza producano sempre lo stesso tipo di uscita di risultato che siano specificati in modo non ambiguo ora questa affermazione della non ambiguità è molto importante perché è legata evidentemente alla eseguibilità con l'avverbio che vedremo più avanti e che possiamo già anticipare che è automaticamente cioè l'eseguibilità automatica che non tollera evidentemente l'ambiguità cosa significa questo non ho capito di e poi l'algoritmo è tale se è generale cioè se risolve il problema per tutti gli input pertinenti non soltanto per l'input 42 e ciò che fa l'informatica di questa nozione di algoritmo computabile è che lo rende tale assicurando che sia calcolabile da un agente terzo non io che lo penso anche va dalla lavagna col gesto e scrivo come fanno i matematici tipicamente scrivo delle equazioni delle istruzioni e con quello ha finito bisogna che questa cosa possa passare a un'altra entità e questo agente terzo dell'informatica è un esecutore automatico non è un mio collega non è un allievo un allieva un amico un amica un parente un congiunto quello che sia e quindi possiamo definire vedete il testo in corsivo prova a dire una formula molto rapida che l'informatica è una scienza e che la sua specialità è fare la cosa che dice la seconda parte della frase risolvere problemi creando algoritmi codificati questo è un termine diciamo sofisticato intenzionalmente in linguaggi eseguibili automaticamente quindi c'è la nozione di esecuzione c'è la nozione di esecuzione automatica che porta tutti gli altri obiettivi che vi raccontavo è un esercizio interessante riflettere bene ma quanti sono i bisogni del mondo reale che possono diventare problemi che l'informatica sa risolvere perché anche questo è una questione dei rapporti con il potere di questa scienza la capacità di questa scienza e quindi se ci chiedessimo ciò che diciamo allo specchio perché non possiamo dialogare a voce ce lo diciamo ciascuno lo pensi per se stesso o per se stessa su quale scala di problemi l'informatica può agire portando soluzioni quanta parte del mondo reale confluisce è traducibile è trasponibile in un problema informatico quindi un problema a cui l'informatica può dare una risposta con le caratteristiche non previste scommetterei diciamo non è una cosa particolarmente nobile scommettere ma secondo me diversi di voi e diversi di voi in ascolto oggi probabilmente pensano che l'informatica in questo senso applichi a un piccolo sotto insieme dei bisogni del mondo reale e invece l'affermazione che l'informatica fa su di sé è no noi li applichiamo a una quantità potenzialmente illimitata di problemi a condizione che facciamo alcune operazioni diciamo concettuali di mappatura da quel problema a una sua versione computabile ci arriviamo tra un pochino su questa cosa e quindi insomma l'informatica è una scienza di una rilevanza clamorosa perché ci dà degli assistenti automatici per fare cose di cui abbiamo bisogno ci dà anche delle cose di cui non abbiamo bisogno no? ma questo diciamo è abbiamo sottoprodotto diciamo non è tanto dissimile dal fatto che ci sono le automobili il cui combustibile produce inquinamento l'inquinamento è una cosa che ci dà la scienza e l'ingegneria sottostante e quindi risolve molti problemi ed è molto rilevante ma teniamo questo a mente e spostiamoci un passo in avanti torniamo alla stratificazione di Peyton Jones e vediamo se questo può applicare anche ai programmi no? e i programmi che cosa hanno? hanno una parte visibile che potremmo chiamare lo chiamerei lo chiamo abitualmente diciamo il fuori visibile cioè la manifestazione esteriore dell'effetto prodotto da un'esecuzione notate che un'esecuzione di un programma non ha soltanto un effetto manifesto a volte anche degli effetti non visibili nel nostro spazio di osservazione sotto sotto questo fuori visibile ci sta un dentro visibile che è dato dallo strato engineering cioè sono i mezzi e gli strumenti di cui abbiamo bisogno per trovare le nostre intenzioni algoritmiche procedurali in effetti cosa sono questi? linguaggi di programmazione un traduttore di queste programmazioni in un programma eseguibile da un computer il computer lo schermo o l'ologramma per vedere quello che sta succedendo la tastiera per poter immettere o la voce per poter immettere questi tradurre diciamo i nostri concetti in atti operativi e poi c'è un dentro nascosto alla profondità del mare degli abissi diciamo che sono in che modo la riforma alle idee che sono la nostra la base algoritmica e il nostro concatenarle in ciò che in queste depositi vedete indicato come intenzioni esecutive quindi a me viene da dire che quella stratificazione applica anche al rapporto che c'è la programmazione programma cioè sappiamo collocare questa cosa verticalmente e sappiamo che esattamente come nel capire cos'è l'informatica che è la parte che sta in fondo negli abissi spesso schiacciata da tutto ciò che c'è sopra e invece in alto ci sta la parte visibile la parte che è soltanto diciamo la parte superficiale emersa di un iceberg che nasconde sotto molto della sua sostanza bene ora una delle cose diciamo su cui sviluppo questo lo sviluppato ragionamento che vorrei fare con voi oggi è il fatto che il fuori la parte visibile l'effetto delle creazioni del programma è molto importante anche se è effimero cioè è lì e il suo essere lì nell'atto di apprendere a programmare soddisfa bisogni emotivi aspettative quindi se programmo subito bisogna di vedere che funzioni l'effetto che fa in un certo senso perché questo accade è perché noi abbiamo tutti noi nell'apprendimento abbiamo un bisogno enorme di riscontro che si chiama feedback cioè vedere l'effetto che fa facciamo una cosa e vediamo il riscontro di questo e questo riscontro ha bisogno di essere rapido se il riscontro è molto ritardato la nostra capacità di apprendimento e di progresso è molto rallentata qui mi viene da fare diciamo una piccola deviazione un aneddoto non so chi di voi quanti di voi conoscono un personaggio molto famoso dell'informatica anche nello strato ingegneria anche se questa persona è nata come un fisico da quanto scientifica lui si chiama John von Neumann appare proprio in modo impercettibile anche del filmone se l'avete visto quello su Oppenheimer quello recente molto impressionante molto ricco molto denso di contenuti ecco John von Neumann era incaricato allo Salamos di curare l'esecuzione sperimentale delle equazioni che i fisici teorici stavano concependo per poter predire l'effetto della fusione della fissione nucleare quindi i fisici teorici scrivono alla lavagna e poi su carta le equazioni complicatissime con le quali ipotizzavano che cosa sarebbe successo e poi c'era un gruppo molto numeroso di persone che erano chiamate a dare in ingresso dei valori esplorativi e vedere che cosa succedeva come auto di quelle equazioni questo serviva ai fisici teorici per poter avere riscontro sul fatto quel modo di configurare quei parametri che ci abbiamo messo quei coefficienti che ci abbiamo messo che significa fare in un certo modo provare un effetto di un certo tipo di un altro quindi cercavano un riscontro la modalità in cui lavoravano prima dell'intervento di John von Neumann era che in questa stanza ogni persona aveva doveva risolvere ciascuna tutto questo sistema di equazioni moltiplicato per tutte le persone presenti e quindi diciamo si davano in ingresso questi valori e tutte calcolavano la stessa risoluzione e poi confrontavano chi aveva avuto una risposta di questo tipo e poi la passavano fuori dalla stanza ai fisici teorici questo procedimento perché questo sistema di equazioni era molto complicato era lentissimo i fisici teorici si lamentavano che non aspettavano i risultati e questo li bloccava li ralentava nel lavoro cercavano riscontro e feedback e John von Neumann inventò un modo diverso di risolvere questo sistema e diede a ciascuna singola persona di questa grande stanza un pezzo dell'equazione la divise in stadi un pezzettino quella persona calcolava rapidamente l'ingresso uscita di quel pezzettino e passava l'ingresso uscita alla persona successiva avanti 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 come quando si passano i sacchi di sabbia per fermare un alluvione una piena di un fiume e in quel modo lì si produceva riscontro molto più velocemente ora l'aneddoto finisce dicendo che le persone che facevano questo calcolo erano tutte donne e erano chiamate screzzosamente the computers le calcolatrici ecco quel meccanismo di calcolo fu trasformato da John Fulham in un modo da dare da produrre riscontro il prima possibile quindi questo è per dire che il fuori cioè l'uscita la parte visibile è importante solo che non è una parte fondamentale è una parte che ci aiuta a mirare giusto quindi ci serve questo arrivare a questo riscontro ma non è la cosa che è più importante è essenziale per poterci rispondere a questi bisogni che abbiamo immediati ma effimero ci da aiutare ad andare al dentro delle cose vogliamo arrivare ad avere questo riscontro per arrivarci occorre spesso rimuovere errori anche quando arriva a questo riscontro bisogna limare dentro lo spazio interno per ripulire un po' le cose adesso vi mostro un diagramma prodotto da un gruppo di persone fra cui guidato da una collega italiana di Milano che prova a raccontare uno schema piuttosto difficile da seguire istantaneamente perché sono un sacco di componenti di freccette che cos'è un programma come è capibile un programma adesso provo a fissare questa immagine io provo a raccontarvi alcuni elementi essenziali alcuni elementi diciamo rilevanti di questa cosa così che possiamo poi da qui fare qualche passo in avanti allora vedete che in alto a sinistra di questa immagine ci stanno dati digitalmente codificati quindi poiché l'informatica si basa sul punto di computabilità e la computabilità è fare calcoli ha bisogno di numeri e questi numeri li si ottengono facendo una creando una corrispondenza bionivoca tra i dati del problema e numeri che le rappresentino quindi là in alto a sinistra ci sta uno snodo importantissimo che l'informatica fa il suo mestiere attraverso i programmi ha bisogno di fare questo encoding trasformare i dati del problema che sono roba del mondo reale in numeri in una modalità tale per cui un numero significa quella cosa lì e non un'altra e dato quel numero capisco quella cosa dato quella cosa ho quel numero è una cosa relativamente semplice ma ha una diciamo faleva cioè poterlo fare produce degli avanzamenti cioè fa sì che l'informatica possa dispiegare il suo potenziale nello spazio centrale vediamo che un programma informatico quindi eseguibile automaticamente è lì perché soddisfa bisogni del mondo reale come dicevamo un attimo fa quanti? tantissimi tutti quelli per i quali sia possibile rapprese individuali l'informazione significativa vedete in basso sotto verticalmente sotto bisogni del mondo reale sui quali fare encoding dato questa rappresentazione questa codifica ciò che fa un programma è trasforma diciamo crea una soluzione computabile eseguibile che è il programma che risolve in un modo computazionale quel particolare problema quindi queste sono le cose che ci interessa sottolineare naturalmente detta in 20 secondi c'è di più ovviamente un vuocchio di sfumatore quindi questo è un pochino il punto è una cosa diciamo un programma è una cosa che è enormemente applicabile perché le cose a cui applica lo spazio del mondo reale sono tutti i problemi sui quali si possa fare questo encoding e avere un algoritmo conseguentemente che sia computabile e una quantità sorprendente di cose si colloca in questo spazio bene allora torniamo alla questione del riscontro e degli errori gli errori stanno fondamentalmente nel dentro del programma non stanno possiamo vedere qualche cosa che non torna nella manifestazione ma non tutti e non sempre sono nella manifestazione esteriore quindi serve darci una disciplina che diventi capace di individuare anche quelli che non sono immediatamente desibili e vorrei arrivare diciamo nel tempo che ci rimane a darvi qualche suggerimento su come si arriva e dico una cosa diciamo per la ora in quest'ottica sugli errori e soprattutto su quelli nascosti quelli che sono dentro servono tempi lunghi e serve una metodica quindi due elementi importanti tempi lunghi e quindi nel modo in cui insegniamo nel modo in cui si apprende servono tempi dilatati che sono chiaramente non compatibili con i tempi d'aula hanno bisogno di andare oltre il tempo d'aula e nei protocolli uno dei principi su quale questo protocollo di cui io parlerò si basa utilizza un meccanismo un ciclo virtuoso di automiglioramento non so quanti abbiamo letto questo libro straordinario di cui vedete la copertina nell'immagine di lato questo libro insegna o meglio rende comprensibile a chi non studi le dinamiche della psicologia cognitiva come funziona il nostro pensiero come pensiamo e questo libro ci spiega usando terminologie abbastanza semplici che il nostro sistema di pensiero fondamentalmente opera su due livelli chiamati sistema 1 che è molto veloce nel suo effetto e che si dice essere associativo cioè che faccia corrispondere delle situazioni a delle risposte in un modo sostanzialmente meccanico e quindi è la parte nostra animale se volete quella che serve per reagire istantaneamente rapidamente ora queste tabelle associative che sono l'ingrediente del funzionamento del cosiddetto sistema 1 sono aggiornate si spera migliorativamente da un sistema più lento più riflessivo che si chiama sistema 2 che lavora su aumentare la capacità di queste tabelle e renderle più coerenti con le osservazioni quindi quando capisco che quello non è un gatto ma è una giraffa aggiorno una tabella associativa che mi dice è un gatto e viceversa senza nessun richiamo agli errori che fanno i sistemi diciamo di come questo del video o delle immagini ora questa roba qua fondamentalmente il ciclo col quale il sistema 2 migliora nel tempo queste tabelle associative su cui diciamo che sono la meccanica del sistema 1 fondamentalmente è un ciclo evolutivo di automiglioramento quindi noi siamo fatti così se ci basiamo su questo tipo di metodica per imparare ci inseriamo su una cosa che già sappiamo fare che il nostro essere già è predisposto a fare che cosa serve per far scattare un meccanismo di automiglioramento il riscontro è una riflessione guidata sui riscontri quindi torna a questo elemento il riscontro è la parola chiave del dominio a cui ci ispiriamo in questo caso l'engineer software e software engineering è la retrospettiva cioè una riflessione guidata sui riscontri che otteniamo cosa è successo perché è successo ci parliamo su questa cosa allora diciamo il punto centrale quindi dove diciamo dove diciamo sottolineo voglio mettere un po' di enfasi al punto che ho usato carattere colorato e il grassetto è che nelle pratiche di software engineering ce n'è una in particolare un po' che non vale di altissima fama perché si è data una definizione poco 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 efficace devo dire la tecnica si chiama extreme programming in acronimo XP la quale dice guardate che il modo migliore più efficace dimostrabilmente più efficace di produrre programmi ottimi quindi che siano efficienti ed efficaci ruote intorno a questo ciclo esecuzione riscontro retrospettiva miglioramento esecuzione riscontro retrospettiva miglioramento l'esecuzione la vogliamo tanta e frequente perché produce tanto riscontro ma non ci basta il riscontro vogliamo fare delle analisi critiche guidate da retrospettiva si chiama così ci torneremo su qual è come si può svolgere che ci aiutino a migliorare migliorare e anche togliere errori rimuovere errori quindi questo ciclo così poderosamente interessante ci dice che bisogna veramente togliere via la percezione che arrivare a un'esecuzione che ci sembra funzionare guardate diciamo nella parte emersa di questa stratificazione non è il punto di arrivo non è il risultato e invece quando vediamo il in certe situazioni di apprendimento anche la necessità passa questo messaggio funzionato a volte addirittura gli studenti quando si scontrano il fatto dei mezzi delle tecniche delle tecnologie che ci portano ad avere un programma funzionante quindi un compilatore per esempio ritengono un risultato eccezionale importantissimo un avanzamento straordinario il fatto che il compilatore non abbia dato errori quindi questa roba qua va tolta di mezzo quindi questo ciclo esecuzione tante frequente per avere tanto riscontro va educata in un meccanismo che attraverso una prospettiva guidata su cui torneremo produca miglioramento questo miglioramento è una scopa d'Aison che toglie la polvere anche nei posti in cui non ci immaginavamo ne fosse c'è un libro diciamo di un autore morto diversi anni fa ma molto impressionante diciamo un autore satirico molto profondo che si chiama Douglas Adams il titolo lo vedete nella parte bassa di questa immagine che a un certo punto dice parla di civiltà molto superiori agli esseri umani ma anche loro hanno sbagliato direzione perché perché vivono della soddisfazione superficiale di avere sconfitto i difetti superficiali e prova a dire questa cosa qua la prima fase dice torno dall'inglese neanche ci accorgiamo siamo acceccati alla profondissima fondamentale inutilità del programma che abbiamo scritto dell'applicazione che abbiamo creato dal fatto che quindi ci ha resi ciechi a questa cosa ce la rende invisibile non ce la fa vedere il fatto che abbiamo ottenuto soddisfazione massima dal fatto che funzioni cioè che ha un effetto superficiale la fatica che abbiamo durato per poter togliere i difetti superficiali affinché ci sia un effetto atteso esterno nasconde tutti gli altri errori fondamentali allora queste cose qua sono scritte in un libro satirico godibilissimo mi piace tantissimo personalmente ma sono un insegnamento secondo me profondo perché è esattamente la dinamica che io riscontro all'università informatica all'università nel punto più alto dove si potrebbe essere questa materia concentriamoci sulla superficie e tutto il resto lo perdiamo bene allora qual è la metodica che aiuta nell'apprendimento di questa diciamo della programmazione accogliere questo ciclo li faccio vedere esecuzione di scontro sul miglioramento risposta la metodica più adatta è quella di sviluppare i progetti cioè togliersi dall'idea faccio una cosa e la butto via l'ho fatta adesso andiamo alla prossima cioè esercizi disconnessi fra di loro un progetto porta in sé non soltanto si presta a quel ciclo virtuoso che vi ho detto ma è un esercizio poderoso per comprendere che un programma in realtà o meglio un'applicazione non è un unico pezzo ma è una composizione di parti e quindi mette in gioco questa dinamica di comporre scomporre comporre e non porre e quando mi vedo diciamo come i studenti per esempio la città ma non soltanto si rapportano con un programma è che loro lo vedono come un monolite come c'è il menhir che c'ha sulle spalle obelix un unico pietrone e questo è un errore clamoroso di metodo e di concetto e qualche collega mi dice sì ma come si fa a dare indicazioni su come si decompone o come si scompone in pezzone o in parti la forma più semplice per decomporre è riconoscere che c'è una parte in cui prendiamo degli input gli ingressi una parte in cui restituiamo dei risultati una forma che sia attesa nella forma anche grafica visuale attesa poi la parte centrale in cui elaboriamo queste cose e la parte in cui elaboriamo può essere la sua volta suddivisa in parti insomma praticamente in cui sta dicendovi che l'esercizio che aveva fatto allo Salam o Stronfone passando da tutti eseguono la stessa cosa e poi confrontiamo i risultati a tu un pezzo tu un pezzo tu un pezzo ed è tutta una tubatura il nome inglese è dato a questa cosa il pipeline tubazione ecco questa roba lì è un programma è la sua suddivisione in parti e ogni parte può essere oggetto di un singolo esercizio ecco in aggiunta a questo che cosa porta a display il progetto cioè il fatto che lavoro su una roba per più tempo porta al concetto di baseline cioè uno stato di avanzamento funzionante ma in completo intrinsecamente migliorabile quindi una traiettoria progettuale è qualche cosa che si presta naturalmente a questo ciclo di automiglioramento perché ha capacità di eseguire per il fatto che ha una baseline funzionante e ha un obiettivo e una pratica una metodologia di miglioramento fare esercizi ripetitivi che si chiamano in inglese road drilling cioè esercizi diciamo di di scaldare i muscoli per diventare diciamo per raggiungere un po' di capacità di automazione di ragionamento rapido su alcune piccole parti si fa molto meglio su parte piccole ma queste parti piccole se sono butto via una volta che le ho fatte non mi interessano più non ci aiutano a entrare in questo ciclo di automiglioramento no? e quindi è utile che siano pezzi che poi si ricompongono per fare qualche cosa di più complicata no? come comporre attraverso dei lego e questa idea no? che si produca nel medio lungo periodo quindi naturalmente con molta parte fuori del lauro si producono dei pezzi di soluzione delle parti e ogni volta che arrivo diciamo ho un aggregato a quell'istante funzionante insomma come faccio ad arrivarci? la risposta è che lasciamo in questo aggregato inizialmente funzionante poi migliorabile per ottenere al più presto possibile un'esecuzione che ci dà riscontro ci lasciamo quello che si chiama nel gergo del dominio che faccio riferimento si chiama debito tecnico cioè limitazioni nella strada del programma che non gli impediscono di eseguire ma che non sono la soluzione finale sono fanno assunzioni per esempio ottimistiche riduttive sono soluzioni parziali sono sporche nel senso che non è il modo in cui andrebbe risolto però da risultato che ci interessa cioè che funzionano permettono di avere un riscontro sto dicendovi che in questa modalità che vuole avere riscontro e vuole permetterci di lavorare per migliorarlo è inevitabile e si trasforma in un valore avere debito tecnico cioè lasciare cose che non sono finite per poter procedere e avere riscontro di un'esecuzione che dice sono sulla direzione giusta adesso cosa devo andare a fare per poterlo migliorare per poter fare immersione di riscontro rapido e frequente allora il debito tecnico è una cosa diciamo interessante dal punto di vista concettuale perché in una rappresentazione che tenta di essere ampia e metodica diciamo ci sono quattro quadranti diciamo di dove si può collocare un atteggiamento rispetto a questo debito tecnico provo a ridefinirlo debito tecnico è abbiamo una soluzione funzionante ma che diciamo che è venuta fuori per il fatto che c'è un riscontro quindi un'esecuzione per avere appunto vedere come le cose andavano ma per arrivarci rapidamente abbiamo tagliato le curve no? andiamo sì questo caso non lo trattiamo ci pensiamo dopo questa cosa qua sì è vero che se l'input fosse negativo si sarebbe un problema ma andiamo avanti lo stesso questo è quello qua lascia il debito tecnico che è un debito come tutti i debiti da saldare perché un debito non saldato poi magari con gli interessi cresce e ci fa del danno allora ci sono questi quattro quadranti che rappresentano il modo in cui le persone l'individuo si colloca rispetto alla presenza di debito tecnico il debito tecnico se guardiamo verticalmente può essere inserito consapevolmente oppure inconsapevolmente quindi so che c'è non so che c'è naturalmente ci sono entrambe le possibilità e poi se guardiamo orizzontalmente ci sono due atteggiamenti l'atteggiamento di chi è prudente l'atteggiamento di chi invece si dice in inglese reckless cioè non è prudente è imprudente fondamentalmente fino al punto di essere un po' troppo avventuroso ora il posizionamento su quei quadranti dice che il peggio possibile è essere nel quadrante in alto a sinistra dove rispetto al lasciare debito tecnico intenzionale io l'atteggiamento non c'è tempo a c'è perdere andiamo avanti invece è più prudente l'atteggiamento dice c'è debito tecnico ne sono consapevole ci lavoro in automiglioramento e poi c'è quello della parte in cui c'è debito tecnico e ce ne siamo accorti che in un caso la parte altra è incompetenza nell'altro or caloc non ci avevo pensato non vogliamo essere nella condizione diciamo del non ce ne siamo accorti vogliamo lavorare in quell'ottica ecco il muoversi in questo quadrante andando nella versione diciamo l'unica che ci interessa quella bassa a sinistra che è quella della consapevolezza c'è una malattia fra le tante da evitare che è il buttare via e rifaccio butto via e rifaccio quando si osserva il modo col quale studenti anche di età molto molto piccola c'è una scuola primaria per esempio si confrontano con un programma non funzionante è che lo buttano via e lo rifanno butto via e rifaccio butto via e rifaccio esattamente il contrario di questo ciclo virtuoso che vi dice allora perché questa cosa qua aiuta e stiamo avviandoci verso la fine diciamo di quello che volevo dirvi oggi funziona e sappiamo che funziona perché stiamo diciamo la scienza ha imparato ha osservato riuscito diciamo a sistematizzare la sua comprensione di come funziona il nostro apprendimento vedete il titolo di un libro abbastanza famoso anch'esso che dice come funziona l'apprendimento dice dicero alcune cose ne mostro due entrambe molto interessanti e molto pertinenti a quello che ho fatto dirvi oggi la prima è che la pienezza della competenza quella che in inglese si chiama mastery arriva in un procedimento dal piccolo al grande quindi dal basso verso l'alto acquisendo pezzi di competenza che ci dicono che so come fare certe cose e poi le integra sviluppando la parte che so quando applicare le cose che so fare e la parte difficile lenta è acquisire i pezzi di competenza per il quale c'è bisogno di fare ginnastica cicli ripetuti e mirati che si chiama come dicevo in inglese road drilling tanti esercizi adesso vi trovo qualche indicazione anche su come questi esercizi si possono fare per evitare diciamo errori tipici la seconda cosa che ci dice ciò che oggi sappiamo su come si apprende è che l'apprendimento si sviluppa in un modo diciamo armonico attraverso un meccanismo di riscontri mirati in inglese targeted feedback quindi faccio cose ricevo degli obiettivi da raggiungere cioè entri goals ecco questi obiettivi il tentativo di rispondere raggiungere soddisfare questi obiettivi deve produrre delle osservazioni indicatori osservabili sui quali poter dare riscontro mirato ecco la questo questo ciclo ti do degli obiettivi nel raggiungere questi obiettivi di andare verso questi obiettivi emergono indicatori che si possono osservare questi indicatori che si possono osservare permettono di dare un feedback mirato ecco tutta questa questa sequenza di avanzare corrisponde mappa molto bene con una modalità con una metodica che nell'ambito diciamo dello sviluppo del software professionale si chiama cerimonia di retrospettiva allora che cos'è una cerimonia di retrospettiva la cerimonia di retrospettiva serve dentro un progetto quindi che abbia un tempo di sviluppo lungo lungo abbastanza dice così dividete il progetto in piccoli tratti vengono chiamati sprint perché l'idea dello sprint è che c'è comunque un contraguardo che raggiunge ogni sprint quindi ogni tratto in cui è suddiviso questo progetto lungo ha degli obiettivi specifici i goals al centro di quella immagine della pagina precedente e raggiungere questi obiettivi di ogni piccolo tratto chiamato sprint può permettere consente che vi sia debito tecnico consapevole il meccanismo che permette di produrre questo riscontro mirato col quale si alimenta la prossima iterazione in un senso migliorativo si chiama appunto trospettiva ed è un momento collocato alla fine di questo piccolo tratto nel quale si ragiona su tre assi asse numero uno che cosa ha funzionato in questo tratto e perché ha funzionato che cosa può essere migliorato sia in termini di prodotto cioè rivoluzione di abito tecnico nel programma che stiamo scrivendo nella baseline funzionante sia come modalità con la quale impariamo a capire le cose e a localizzare meglio gli errori per esempio e quali vogliamo che siano gli obiettivi del prossimo tratto sprint questa cosa ha un valore che sul campo è dimostrato anche in forma didattica non a caso moltissimi quasi tutti fondamentalmente i percorsi di studio universitari per esempio la forma diciamo di culmine dell'apprendimento di un percorso di base quindi per esempio l'aura triennale è esattamente costruire progetti su un tempo lungo attraverso questo tipo di ciclo siamo in fondo e quindi mi sposto alla diapositiva conclusiva e l'effetto di applicare questo ciclo è straordinariamente formativo quindi non sono degli auspici sappiamo che può funzionare allora osservazioni conclusive e poi possiamo fare una pausa e ci incontriamo per chi vuole dopo per avere uno scambio diciamo le vostre domande scritte e le mie risposte alle domande che appariranno nel tabellone allora alcuni alcuni punti diciamo su cui mi sono diciamo ho messo l'accento in questa presentazione di oggi che meglio darsi tempi lunghi che vanno al di là dell'aula e che ci mettono via che cestilano il fare cose che finiscono nel cestino ce l'ho fatta va bene next prossimo ma quello che ho fatto è stato soltanto per smarcare il fatto che lo abbia fatto questo allungare i tempi e poter mettere in atto questo ciclo l'esecuzione di scontri e sportivi di allenamento sta molto bene sta a casa dentro il riluppo di un progetto e che è fatto di comporre pezzi di riconoscere le parti di un problema più complicato che non è sempre per forza molto complicato ma che è fatto di parti lavorando individualmente sulle parti in una forma tale che si possa avere un'esecuzione e accedere in scontri piuttosto che nell'accumulo sulla scrivania o nel cestino c'è una scrivania di cose fatte ma che non si compongono in cui non le vede insieme vedo questa poi vedo quest'altra poi vedo quest'altra e questa modalità incentiva perché produce riscontro perché porta esecuzione aiuta l'apprendimento e il meccanismo con questo concludo il meccanismo tramite il quale questo riscontro diventa valore alimento verso l'automiglioramento è appunto questa c'è una ritrospettiva che si muove su un quadro di indicatori attesi e di riscontri mirati cioè il riscontro non è pur che sia il riscontro è per le aspettative quindi nella nozione che dicevo prima sprint ogni sprint ha obiettivi sia sul prodotto che stiamo realizzando le aspettative del fatto che funzioni che faccia certe cose sia nel modo in cui arriviamo a farlo funzionare si chiamano nel gergo il prodotto il processo ecco tutto questo è oggetto di obiettivi mirati e di riscontro mirato ecco questa roba qua si alimenta e naturalmente non può bastare l'aula il tempo d'aula no? c'è bisogno che soprattutto la ritrospettiva anche individuale si possa fare diciamo in autonomia perché c'è una griglia di aspettative e c'è uno spazio entro il quale possiamo lavorare per vedere quanto ci disgustiamo dalle aspettative e chiedersi perché è successa questa cosa è successa Grazie a tutti